Promuovere la conoscenza della Valtellina attraverso le tesi di laurea dei suoi studenti è l'obiettivo del bando di concorso indetto anche quest'anno dal BIM dell'Adda. L'intento è proprio quello di premiare le ricerche che favoriscono la scoperta e la divulgazione di aspetti relativi al territorio della provincia di Sondrio, con le sue peculiarità e le sue ricchezze a partire dalle acque e dall'energia, ambientali e paesaggistiche, ma anche economiche e socioculturali. Tematiche diverse dunque declinabili secondo i diversi corsi di studio universitario, ma tutte accomunate dalla centralità del territorio. Possano partecipare al bando i residenti in provincia di Sondrio che al 31 dicembre non abbiano compiuto i 27 anni di età e che si siano laureati nell'anno accademico 2016-2017. Il lavoro di questi studenti, secondo il Consorzio dei Comuni del Bacino Inbrifero Montano dell'Adda, merita di essere riconosciuto e divulgato in quanto espressione del senso di appartenenza e del legame con la valle e per le sue evidenze scientifiche, economiche, culturali e sociali utili a meglio comprendere la realtà locale. Per partecipare al bando è necessario presentare domanda al BIM entro le ore 12 del 15 maggio utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito bimadda.it. Un'apposita commissione poi valuterà le tesi presentate e stilerà le graduatorie finali. In palio ci sono premi di 1.500 euro per tesi di laurea magistrale e di 1.000 euro per quella triennale. L'importo totale è di 10.000 euro. La premiazione dei vincitori avverrà entro il mese di giugno.